A presto A presto A presto A presto A presto Mi chiamo Siamo Paolo Mugio Che gli parla E oggi vi farò vedere Nessun glitch Per far vedere Della standing Con cecchini Contri cecchini Insieme a me C'è Ricky Fura Che ha il Canale in detruzione E niente Cominciamo Quella non so cosa sta facendo Headshot non è airshot ma è uguale ho sentito in pancia ok che ci vuoi un rumore strano ma vabbè qualcuno si è suicidato assenzione parti vincenzo l'ha preso guarda guarda sto si è anche ribaltato penso un attimo a quello lì penso vincenzo merda e che cazzo si è sicuro oh non ho usato cecchini eh buonanotte e scappa eh si una notte si va dai su un nabo che se usi l'insurso che come ho detto prima lascio il canale in descrizione se volete passarci fa anche accanto modati uno l'ho cecchinato quello lì sta usando il cazzo di coso pox non lo so no no e anche il ritmo lo sto usando eh vaffanculo quello di mezzo vabbè e poi ho usato anche il coso del pompa tanto entro un altro eh che cazzo però eh vuoi fare un dedo invece così per gli 20 a 0 vinto vaga ok 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 ma cazzo e gli altri ok ok grande grande ma anche io non ho niente cazzo no cazzo no se ne due sono uno di qua uno di là e grande ecco abbiamo vinto la partita il video è finito se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate iscriviti al canale se ancora non siete iscritti per non perdere dei prossimi video news aggiornamenti e molto altro lascerò un'istruzione del canale di ricky furax e noi ci vediamo così un video bella ciao 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 ciao